Ma, 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 caro pastore, caro c'è via il pastore, ma cosa combini pastore, cosa combini pastore, dici che ami il calcio, e poi non ti vuoi liberare dalla Roma, perché hai un bel contratto, prendi 4 milioni e mezzo all'anno, a stagione, quindi perché? Perché? Perché dovresti andare via, no? Bah, io, qualche motivo, l'avrei, e io te lo vado anche ad elencare, eh, sempre rotto, ogni volta che giochi non fai mai un cazzo, Se è venuto nel 2018, e devo dire che non hai concluso niente, anzi hai fatto due gol di tacco subito, sei partito a raggio, hai fatto così, per poi fare, fare questa, questa discesa così, E ora non te ne vuoi andare, dici che ami il calcio, il calcio è tutta la tua vita, tu vivi per il calcio, per giocare, perché se non giochi ti loggo di dentro, ma intanto, Intanto non te ne vai, dici sempre la cozza attaccata allo scoglio, perché sai che qua hai 4 milioni e mezzo sicuri, e dove vai vai? Nessuno te li dà, ma prima di cominciare, come al solito ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare like se vi è piaciuto il video, Dislike se non vi è piaciuto, e commentare qua sotto, cosa ne pensate realmente di Xavier Pastore, perché dico questo? Perché quando c'è stata la presentazione della Roma, quindi il 14 agosto, se non erro, allo stadio, lui dov'era? Non lo faccio vedere io dov'era lui, guardate qua, ecco dov'era lui, avete visto? Avete visto? Questo era dove era lui, ragazzi, guardate, lui era là, al parco dei, si chiama parco dei principi, no? Forse mi sto sbagliando, lo stadio del Paris Saint Germain, come si chiama? Non lo so, però, lui era là allo stadio del Paris Saint Germain, a fare feste, festini, era con il, forse il presidente anche, è seduto accanto al presidente, ha parlato con Pochettino, ha parlato un po' con tutti, quando a Roma gli stava presentando la squadra ufficiale. La volete sapere una bella cosa? Che la Roma non gli aveva, non l'aveva autorizzato, non l'aveva, non è inutile che dire, eh, birichino, abbiamo scoperto, non era autorizzato, lui non era autorizzato per niente, ok, ad andare là, ad andare a fare la festa in Francia. Ma ora andiamo a leggere perché Roma, pastore, alta tensione, il flaco non autorizzato a festeggiare con, col, scusate, Paris Saint Germain, l'argentino aveva saltato la presentazione dei giallorossi all'olimpico preferendo quella dei parigini. Ora col suo nuovo entourage si tratta per la risoluzione contrattuale, ma servirebbe un incentivo all'esodo che il club non vuole riconoscere, perché lui vuole qualche cosina, non so da quanto, ma mettiamo caso, ok, è una cifra che sto dicendo io, due milioni per rescindere il contratto, ma la Roma ovviamente non ci sta. Roma, dopo tanta attesa, la pazienza è finita e l'addio non può più essere rimandato. Sono passati tre anni da quel 2018 in cui Xavier Pastore si trasferì da Parigi a Roma. Tre anni segnati soltanto o quasi dalla sua assenza. Solo quattro gol in 37 partite, molto di più di quelle viste da casa, cioè da casa sua, perché lui le guardava da casa. Alle prese con infortuni di vario natura per lungo tempo, la Roma ha deciso di aspettarlo. Paolo Fonseca aveva anche tentato di recuperarlo alla causa, riscendoci parzialmente, perché l'anno scorso mi ricordo che Paolo Fonseca lo preneva, lo faceva giocare un pochettino, lui così giocava due o tre partite, neanche Pac, di nuovo infortunato quindi. Ma ad alcuni giorni i rapporti tra il trequartista argentino e la società di Trigoria sono franati del tutto. Festa non autorizzata col Paris Saint Germain. Il motivo della rottura è semplicemente mentre la Roma scendeva in campo per la sua prima partita, seppur amichevole davanti ai propri tifosi, lo scorso 14 agosto lui, il flaco, come lo chiamano in Argentina, ma anche a casa la moglie e la sua famiglia aveva altro da fare. Più che la presentazione della squadra giallorossa, dove lui ha un contratto, ricordiamolo, infatti ha scelto di seguire quella di Paris Saint Germain, la squadra da cui i giallorossi l'acquistano per 25 milioni di euro. Grazie Monkey... Eh grazie... Ah, ok. Una presa... Una presa, babbo, ciao! Una presenza tutt'altro che è segreta, visto che è stato immortalata dai sui social e dallo stesso club parigino. C'è un problema però. Pastore non era stato autorizzato dalla Roma ad andare a Parigi. Il suo comportamento non è ovviamente piaciuto ai dirigenti. Provede a Dio ma gratis. Anche per questo la Roma sta cercando di forciare la mano per anticiparne l'addio. E forciare proprio che... Pastore è legato ai giallorossi addirittura fino al 2023. Ma ormai è fuori dai programmi tecnici. Si allena a parte col gruppo dei Esuberi, insieme a John Zee, Fatsio, Santon e Olsen. Questi sono altri quattro che scrivono sempre sui social interviste Amo il calcio, oddio, senza il calcio non posso stare! Però perché me ne devo andare quando quel minchione di Monchi mi dava un sacco di soldi e nel contratto mi ho fatto firmare che prendo 5 milioni all'anno? Ma sì, è solo a Roma! Cioè. Ma il general manager Tiago Pinto sta cercando di accelerare l'addio. Accelerare l'addio. Trattando col suo entoraggio una risoluzione contrattuale in cui la Roma non vorrebbe pagare incentivo all'esodo. Questa è la politica aziendale che vale anche per gli altri. Ma allo stesso tempo spera di poter ridurre al minimo la convivenza per alleggerirsi del suo stipendio da 8 milioni lordi, stipulato dall'ex spagnolo Monchi. Quella a Roma era redice da una semifinale di Champions e tutto pareva possibile anche di lanciare una stella cadente, cioè Xavier Pastore. Ragazzi, questo è tutto. Mi dispiace per Pastore perché comunque come tecnica, come tutto, io me lo ricordo a Palermo, era perché ormai un grandissimo giocatore. Beh, però ragazzi, troppi infortuni, troppi, troppi, troppi infortuni, sempre sotto. Ora, 4 milioni e mezzo non gli dà nessuno. Lui vorrebbe un incentivo per lasciare andare il contratto, diciamo, consensualmente, ma la Roma non gli vuole dare, quindi vedremo come va a finire. Però, Monchi, vabbè, Tiago Pinto è a Milano per capire un po' la situazione degli esuberi e magari anche di qualche entrata. Chi lo sa, ragazzi, se il video vi è piaciuto come al solito, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e commentate qua sotto. Cosa ne pensate? Ovviamente lasciate anche dislike se non vi è piaciuto il video. Ci becchiamo alla prossima. Lasciate like, però. Ciao, belli.